È nato un comitato spontaneo per dire no alla realizzazione di una strada progettata dall'Unione Comune Medievale del Serchio, definita un adeguamento del tracciato forestale, insomma una strada lunga meno di un chilometro per finalità di antincendio boschivo. Ci troviamo indubbiamente in uno dei luoghi più belli e incontaminati di tutta la provincia. Siamo a Rifugio Casentini la Caserma, in Val Fegana, e poco dopo il sentiero, solo 100 metri dopo, parte, c'è questo spiazzo che vedete alle mie spalle, e parte il sentiero CAI 14. Infatti si tratta di un sentiero o niente più. Realizzare qui una strada percorribile con i mezzi sarebbe, secondo i componenti del comitato, non solo una ferita per l'ambiente, ma anche motivo di stabilità, vista la criticità del territorio. Questa zona non ha mai conosciuto una strada forestale, è una zona percorsa da sentieri meravigliosi, stabili, assolutamente antiche, in equilibrio. Metterci le ruspe sarebbe devastante a livello geologico, nonché naturalistico. Tutto verte sul fatto che è una riqualificazione di una vecchia strada che c'era già, una strada forestale che c'era già, ma in realtà qui non c'è mai stato nulla. È impossibile che ci sia stato niente, tantomeno una strada dove ci passavano i mezzi. Il comitato che si oppone alla realizzazione della strada sta raccogliendo adesione a tutti i livelli, cai, lega ambiente, tanti cittadini e personaggi noti, anche perché bisogna considerare, spiegano, che siamo all'interno di un'oasi protetta. Siamo all'interno dell'oasi di protezione dell'ordo di Burti, che come vedete da questa cartina è un'area assai vasta che protegge proprio la riserva, quindi questa è una vera e propria bolla di protezione della riserva. L'agurio che si fanno in tanti è che l'ente possa rivedere il progetto, evitando una ferita lunga quasi un chilometro in un luogo incontaminato.